Ancora ben trovati con Milano Pavia News, l'edizione Pavia, vediamo subito i titoli della giornata. La necessità per 15 milioni di euro alla fine della vendemmia inoltre può potrebbe addirittura peggiorare. Un disastro annunciato a causa della malattia dovuta a un fungo. Ancora una rapina messa a segno da giovanissima Pavia, ancora uno studente preso di mira. Successo nei giorni scorsi in stazione, la polizia è arrestata un diciassettenne. Oltre 70 firme raccolte dai residenti del centro per chiedere di cambiare l'attuale regolamento della zona traffico limitato di Vigevano. Il documento svantaggi e residenti. Pavia tra le peggiori province per l'efficientamento energetico a livello regionale. Questo è il quadro tratteggiato dai dati del sistema informativo sugli attestati di prestazione energetica. Crea uno spazio dove far incontrare imprese e persone in cerca di lavoro, soprattutto giovani in condizioni di fragilità. È l'obiettivo del progetto Calis che nascerà a Pavia Ovest. In apertura avete sentito le preoccupazioni per la vendemmia in oltre po' pavese per i danni causati dalla cosiddetta malattia del fungo. Fino adesso si parla di 15 milioni di euro, ma il dato potrebbe ulteriormente aggravarsi. Danni censiti per almeno 15 milioni di euro e la vendemmia in oltre po' non è ancora finita. Una volta conclusa si potrebbe arrivare a diverse decine di milioni. Sono i numeri di un disastro annunciato, quello provocato dal dilagare della peronospora nei vigneti. Una malattia dovuta ad un fungo di cui non si sentiva parlare da tempo da queste parti e che quest'anno ha portato in media a dimezzare la produzione di uva. Ma c'è anche chi, come i produttori biologici, si è dovuto accontentare del 20-30% del raccolto a fronte di spese maggiori del solito per i trattamenti che alla fine sono serviti a ben poco. Questi gli effetti della peronospora sui vigneti. Guardando a qualche resta di questi grappoli di croatina, ben si capisce perché da queste parti la malattia si chiama ningron per il colore scuro che assume l'uva aggredita dal fungo. Lunedì mattina sono iniziati i sopraluoghi da parte dei tecnici della regione e delle associazioni agricole nelle aziende colpite. Qui siamo a Montalto Pavesi, in questa azienda che conferisce tutta l'uva prodotta in oltre 50 ettari alla cooperativa Terra ed Oltrepo. I titolari Davide e Cesare assicurano di non aver mai visto nulla di simile nonostante gli innumerevoli trattamenti per proteggere il raccolto in alcune zone non si è nemmeno iniziato a vendemmiare mentre in altre qualcosa si è salvato. Malissimo, secondo me abbiamo perso più del 50% a causa della peronospora. All'inizio si vedeva che iniziavano ad essere ammalate però il più grosso è saltato fuori verso la fine, appena prima della vendemmia. I trattamenti li abbiamo fatti tutti, non abbiamo saltato neanche uno però non sono serviti, non l'ho mai visto proprio. Le associazioni prendono nota, fotografano la situazione, ascoltano le imprese deluse e preoccupate e si preparano a chiedere un impegno straordinario da parte di Stato e Regione perché ripartire dopo una batosta simile per le imprese dell'Oltrepo già da anni alle prese con prezzi delle uve ai minimi storici sarà ancora più difficile. Purtroppo sono confermate tutte le previsioni peggiori dove arrivata la peronospora ha segnato in modo drammatico la produzione con cali che sfiorano l'80%. Occorre davvero fare subito sistema e dare risposte alle imprese perché se pensiamo al 2022 con la siccità e quest'anno dopo appena due anni con questo evento di fitopatologia diffusa diventa davvero difficile. Serve uno sforzo straordinario per dare risposte alle imprese e permettere la ripartenza nel 2025 subito. Per fortuna abbiamo zone non colpite che riescono a produrre e a garantire qualità e anche presenza sul mercato perché poi c'è anche il tema di garantire la presenza sul mercato del prodotto. La cronaca dobbiamo documentare a Pavia ancora un episodio nei pressi della stazione con protagonista insomma al grado di una giovane studente rapinato da un 17enne. Sentiamo. Ancora una rapina messa a segno da giovanissimi a Pavia, ancora uno studente preso di mira. È successo nei giorni scorsi nella zona della stazione ferroviaria. Un ragazzo appena uscito di scuola, minorenne, è stato avvicinato da altri due giovani in Viale Trieste. Uno di loro ha estratto un coltello e gli ha intimato di consegnare la collanina d'oro che portava al collo di fronte al rifiuto dello studente. Il rapinatore lo ha spintonato e gli ha strappato la collana per poi darsi alla fuga assieme al complice. La vittima non è però rimasta a guardare. Ha subito chiamato il 112 spiegando quanto era successo. Nel giro di pochi minuti in zona sono arrivate due volanti della polizia. Alcuni agenti hanno chiesto allo studente di aiutarli a identificare il malvivente mentre i colleghi si sono diretti in via Bricchetti raggiungendo l'uscita posteriore della stazione e riuscendo a bloccare la fuga del rapinatore ad ammanettarlo. Il giovane che ha solo 17 anni dovrà ora rispondere di rapina gravata. Dopo le formalità di rito è stato trasferito presso il centro di prima accoglienza di Milano in attesa dell'udienza di convalida. L'attenzione della polizia di Stato, fanno sapere dalla questura, rimane alta per garantire la sicurezza degli studenti che sono tornati a frequentare maggiormente il centro storico dopo l'avvio dell'anno scolastico. A Vigevano adesso con le notizie dove tiene banco invece la ZTL e i cittadini che hanno avviato una raccolta firme e chiedono di modificarne il regolamento. Sono 77 in tutto le firme raccolte dai residenti del centro riunitisi domenica sera in un ristorante di Piazza Lucale. La richiesta è quella di cambiare l'attuale regolamento della zona traffico limitato di Vigevano, che così come è stato elaborato dall'amministrazione comunale svantaggia i residenti. Il primo problema che è stato sollevato dalle circa 100 persone intervenuto è quello della scarsa comunicazione. Alcuni di loro non avrebbero ricevuto l'informazione che il precedente permesso non era più valido e sarebbero incappati in una serie di multe. Altri ancora non hanno ricevuto le indicazioni sul tipo di percorso da seguire. Addirittura c'è chi si sarebbe trovato a dover fare inversione a U in Via del Popolo e in Via Cavallotti. Dalla riunione è emerso un documento che propone una serie di revisioni del regolamento comunale, in un'ottica di semplificazione ma anche di maggiore sostenibilità. Uno dei problemi che è stato affrontato riguarda ad esempio le auto sostitutive, quando si deve andare a portare la propria dal meccanico o dal carrozziere. Si chiede in quel caso di snellire la burocrazia. In generale, secondo quanto è stato raccontato nella riunione, chi vive in centro con il nuovo regolamento è stato svantaggiato anche a livello economico. C'è chi in un solo anno ha calcolato di aver speso 1.400 euro in più. Torneremo tra poco a Vigevano con altre notizie. Adesso però a Pavia per la visita della senatrice a vita Liliana Segre nel tardo pomeriggio ha partecipato nell'aula magna dell'Università alla cerimonia per il premio Burgio 2024. Il premio è intitolato al fondatore della scuola pediatrica Pavese. viene assegnato a personalità che hanno un particolare riguardo per il destino dei più piccoli. Quest'anno Università e Policlinico San Matteo, promotori del premio, hanno deciso di assegnarlo simbolicamente ai bambini vittime di tutte le guerre. Si è scelta la figura di Liliana Segre nel conferimento di questo premio in segno di riconoscenza per la sua testimonianza e il suo impegno nei confronti dei giovani. La cerimonia si è protratta nel corso della serata. Vi proporremo un servizio sull'intervento della senatrice a vita nel corso delle prossime edizioni. Dicevamo di Vigevano non solo il regolamento per la ZTL, anche quello per la mensa scolastica. Sta facendo parecchio discutere. Sentiamo. Il rischio è che con il nuovo regolamento molte famiglie decidono di non usufruire più del servizio bensa. A dirlo sono le volontarie dell'associazione dell'articolo 3 vale anche per me, che stigmatizzano le nuove regole volute dal comune di Vigevano. Da quest'anno, infatti, chi sceglie di lasciare il proprio figlio a mensa all'inizio della scuola deve usufruire del servizio per tutto l'anno e non potrà più portarsi il cibo da casa. È consentito cambiare idea solo una volta. Questo può creare difficoltà alle famiglie soggetti ai rivolgimenti economici. Allora, da quest'anno il comune di Vigevano ha comunicato a tutte le famiglie, che comunque ha fatto un decreto, per cui le famiglie che iscrivono i bambini a mensa, nelle mense scolastiche, sono obbligati a lasciare per sempre il bambino a mensa. Oppure, se non li iscrivono, devono per sempre dare al bambino o il panino oppure andarli a prendere nell'ambito del mezzogiorno. Si può fare una variazione una volta sola a questa scelta durante l'anno scolastico, per cui chi l'ha iscritto a mensa potrebbe decidere, ma una volta sola, di dare il panino al bambino. In questo modo alcune famiglie sono messe un po' in difficoltà perché non poter scegliere durante la settimana, durante il mese, di alternare il servizio mensa con il panino, insomma, alcune difficoltà economiche salteranno fuori. Nata nel periodo in cui il comune di Vigevano aveva deciso di togliere le fasce di esenzione dal servizio mensa, l'associazione oggi si occupa di dare contributi a famiglie che sono in difficoltà nel pagare la mensa. Ogni venerdì al Teatro Odeon diversi genitori si recano al punto di ascolto e di aiuto aperto dall'associazione. Noi come articolo 3 cercheremo di fare tutto quello che possiamo per aiutare le famiglie con la speranza di tutto cuore di farcela. Cambiamo argomento, Pavia, inteso come territorio provinciale, maglia nera dell'ennesima classifica, quest'ultima, quella dell'efficientamento energetico. Pavia tra le province peggiori per l'efficientamento energetico delle case. Questo è il quadro tratteggiato dai dati Siape, il sistema informativo sugli attestati di prestazione energetica usato per inquadrare la situazione degli edifici lombardi. Secondo le ultime rilevazioni, nel 2023 a ricadere nelle classi energetiche peggiori, la F e la G, ovvero quelle con il più alto consumo, è circa il 26% degli edifici lombardi, stessa percentuale di quelli appartenenti alla classe A, quella migliore in cui rientrano le case dotate di cappotto termico e che ricorrono a fonti di energia rinnovabile. Una situazione in leggero miglioramento rispetto a due anni fa. Gli APE, gli attestati di prestazione energetica rilasciati nelle classi A, sono aumentati di 5 punti percentuali, mentre quelli per le classi F e G sono calati di quasi il 7%. A incidere è stato soprattutto il ricorso al super bonus, le agevolazioni per gli interventi di riqualificazione energetica e adeguamento antisismico degli edifici. Dal 2019, l'anno prima dell'introduzione della misura, le classi A sono aumentate del 14%, mentre le classi A e F e G sono calate di quasi 21 punti. Analizzando la situazione ancora di più nel dettaglio, Pavia risulta la provincia con il più alto numero di attestati rilasciati di classe G e F, con il 51%. Peggio del comune capoluogo, fanno solamente l'ecco e comor rispettivamente con il 49-48%. Guardando infine la somma delle classi A, la categoria più virtuosa, il comune capoluogo risulta la maglia nera in una classifica comandata da Sondrio, con il 25% di attestati rilasciati. Efficientamento energetico che parà in primo piano in diverse strutture scolastiche della provincia, è il caso della scuola dell'infanzia di Bagnaria. Sentiamo. Colline dell'oltrepost popolate e senza bambini non sempre è così, perché, fermo restando, il trend demografico nazionale e locale è sempre negativo. Ci sono luoghi dove le famiglie faticano persino a trovare posto per i propri figli. È il caso di Bagnaria, dove la piccola scuola dell'infanzia è molto apprezzata dai genitori del paese e da quelli limitrofi come Cecima, Pontenizza e Valdiniza. Per questo il piccolo polo dell'infanzia della media Valle Staffora, attivo da quasi 50 anni, negli ultimi mesi è stato al centro di numerosi interventi di miglioramento. Dopo quelli dedicati all'efficientamento energetico con la sostituzione degli impianti termici e degli infissi e quelli destinati all'abbattimento delle barriere architettoniche e ai servizi igienici, nelle prossime settimane inizierà l'installazione di un impianto fotovoltaico sui tetti della scuola. In questo caso i lavori sono stati finanziati con 80 mila euro ottenuti con un bando ministeriale. La nostra scuola come polo raccoglie con un accordo che si protrae da molto tempo anche i bambini che provengono dai comuni vicini, limitrofi di Pontenizza, Cecima e Valdiniza. Abbiamo una sezione unica, da qualche anno abbiamo anche la fortuna, bar anche sfortuna perché qualcuno troppo non riesce ad accedere, perché abbiamo anche una lista d'attesa. Quindi la nostra scuola è ben vista anche dalle famiglie, noi come amministrazione cerchiamo di fare del nostro meglio e in questi anni abbiamo realizzato innumerevoli interventi sul patrimonio edilizio di questa scuola. Nel corso dell'estate abbiamo fatto un intervento di riqualificazione interna nei servizi igienici adeguandoli alle nuove normative con l'abbattimento delle barriere architettoniche e sostituzione anche di alcuni infissi a risparmio energetico. Mentre prossimamente appena partiti con tutte le pratiche legate alla burocrazia realizzeremo un intervento sul manto di copertura, anch'esso legato a un finanziamento sull'efficientamento energetico grazie appunto a un bando ministeriale. Cambiamo argomento e ci occupiamo dell'abbandono dei rifiuti che riguarda un po' tutto il territorio della provincia, ma da Rosasco arriva una proposta innovativa, l'utilizzo di droni. Droni per controllare gli abbandoni dei rifiuti e prevenire così i rincari della Tari. La soluzione proposta arriva da Rosasco, piccolo centro di poco più di 500 abitanti. Ci eravamo occupati più volte nei mesi scorsi del problema degli elevati costi dei rifiuti, certificato anche dai rincari della tariffa Tari, con aumenti fino al 10%, in linea con la media provinciale. Un problema che si sente anche nei centri di piccole dimensioni, che devono fare i conti con finanze risicate e che, secondo il sindaco di Rosasco Riccardo Berzero Taccone, è dovuto soprattutto a un errato conferimento dei rifiuti nei sacchi, o peggio ancora, agli abbandoni di immondizie nelle campagne lomelline. A Rosasco la Tari nel 2024 costerà complessivamente 117.595 euro, secondo l'ultimo aggiornamento del piano economico finanziario. Tradotto, diviso per un comune di 547 abitanti, si parla di poco più di 200 euro a cittadino. Che cosa manca quindi? Chi impedisce alle persone più irresponsabili, e ce ne sono ancora troppe purtroppo, di prendere i loro rifiuti, metterli in un sacco e buttarli nelle nostre campagne. Ecco lì si sta facendo, non poco, non si sta facendo nulla, niente. Quindi occorre una capacità sanzionatoria vera, soprattutto pecuniaria, e una capacità di monitoraggio seria. Da qui la richiesta di maggiori controlli e quindi sanzioni per chi non differenzia i rifiuti in modo adeguato. Questo perché, come ammesso dal primo cittadino di Rosasco, la sensibilizzazione non basta più. Si potrebbe pensare, logicamente, all'inizio sarà anche lì oneroso, però servirebbe per andare a prendere anche a random questi delinquenti con un monitoraggio tramite i droni. Cioè capire, oggi abbiamo delle tecnologie importanti, far passare i droni per i comuni che attueranno queste convenzioni con una normativa, e lì dipende assolutamente dallo Stato, con una normativa di ingaggio chiara, per andare a sanzionare chi è borderline, chi si mette fuori dalla legalità danneggiando tutti. Perché è un po' come quando avevamo tutti i cassonetti, che c'erano dei cittadini onesti che andavano a buttare la carta nel cassonetto della carta, la plastica nel cassonetto della carta. Invece ci sono quelli che, come vedevano un cassonetto, buttavano la loro immondizia e di fatto hanno compromesso quel tipo di raccolta. Pagina Pavia per un bel progetto che nascerà nella zona ovest della città, il progetto Calis, che vuole aiutare le persone ad approcciarsi al mondo del lavoro, soprattutto ai giovani in situazioni di fragilità. Creare uno spazio dove far incontrare imprese e persone in cerca di lavoro, soprattutto giovani, in condizioni di fragilità, che possano così venire integrati nel contesto sociale del territorio. È l'obiettivo del progetto Calis, acronimo che sta per Centro Aggregazione Lavoro Imprenditori Solidali, promosso a Pavia da Fondazione Laboratorio di Nazareth, Fondazione Le Vele e il Girasole. Il centro sorgerà a Pavia Ovest, dove è già presente il piccolo chiostro di San Mauro. L'obiettivo resta sempre quello, quello di andare verso le persone che hanno bisogno, in questo caso soprattutto di lavoro. Ora, questo è un passo ulteriore, ci siamo candidati come Fondazione e Fondazione Banca del Monte di Lombardia e Banca Intesa, ci sono venuti incontro proprio per realizzare un luogo che sorgerà nella zona di Pavia Ovest, vicino ad altri luoghi simbolici per la carità, per l'attenzione agli altri, come possono essere la Messa del Fratello, l'Oratorio di San Mauro, la Parrocchia del Santissimo Salvatore, adesso anche il piccolo chiostro di San Mauro. E quindi un luogo che sarà un punto di riferimento per la formazione, per l'incontro, ma anche per l'accoglienza, nello spirito appunto dell'attenzione all'altro e dell'aiuto a chi il lavoro non ce l'ha, il lavoro che significa anche dare dignità alla persona. Nel centro si lavorerà sulla formazione dei giovani e saranno favoriti i percorsi di autoimprenditorialità. Il progetto Calis, che nasce con l'intenzione di creare un modello virtuoso di impresa sociale allargabile a tutto il territorio provinciale, ha ottenuto un finanziamento di 1,2 milioni di euro da Fondazione Banca del Monte di Lombardia. Positiva nel senso che è un'idea che si apre alla città, apre l'attività degli enti alla città e soprattutto è un'occasione di collaborazione tra la Fondazione e queste meritorie associazioni pavesi, insieme, questo è il dato fondamentale di questa iniziativa, insieme a Banca Intesa. È fondamentale perché spesso le attività delle fondazioni e delle banche partecipate dalle fondazioni bancarie non sono adeguatamente considerate apprezzate, anzi si pensa che siano soltanto collaborazioni di tipo economico se non addirittura speculativo, non è così. Nel caso delle fondazioni che partecipano a Banca Intesa non è così e non è così soprattutto nel caso della collaborazione tra Fondazione Banca del Monte di Lombardia che è socia di Intesa e Intesa stessa. Tematiche del lavoro in primo piano in un'altra situazione di difficoltà e fragilità, stiamo parlando del carcere di Vigevano, qui alcuni detenuti, 18 in totale, hanno iniziato a lavorare per un call center interno alla struttura che fornisce servizi a diverse aziende. Sentiamo. Un gruppo di 18 detenuti del carcere di Vigevano ha iniziato a lavorare al call center interno che fornisce servizi a quattro aziende. L'iniziativa è partita grazie alle cooperative B4 e di vieto di sosta sull'onda di quanto è già stato fatto da tempo al carcere di Bollate. I detenuti prima di iniziare a lavorare si sono sottoposti a una formazione che ha permesso loro di sviluppare competenze tecniche e attitudinali. L'obiettivo vero e proprio dell'iniziativa è quello di lavorare come una vera e propria azienda, ottenendo la necessaria qualificazione. L'iniziativa è stata presentata ufficialmente in un evento al quale hanno partecipato la senatrice Maria Stella Gelmini, il consigliere regionale Andrea Sala e il sindaco di Vigevano Andrea Ceffa. Tra gli obiettivi della direzione del carcere di Vigevano c'è quello di far crescere il progetto che ha preso il via da qualche mese. E contiamo di arrivare nei prossimi mesi, considerato che a ottobre inizierà un altro corso di formazione ad un numero di circa 25-30 detenuti assunti. Le qualità richieste dei detenuti che rientrano nel programma sono quelle di avere capacità empatica a saper gestire le obiezioni e lavorare in gruppo. Durante la giornata di presentazione è emerso come, grazie a questo progetto, molti detenuti del carcere di Vigevano si siano avvicinati a un lavoro che non rientra tra quelli che di solito si fanno in carcere, come spesino o spazzino. Per uno di loro è anche stato il primo lavoro vero e proprio. Quanti rientrano nel progetto vengono pagati secondo il contratto nazionale e hanno la possibilità di non pesare sulle proprie famiglie, contribuendo a pagare il proprio debito con lo Stato per la permanenza in carcere. Torniamo a Pavia perché domani i temi dell'insonnia saranno al centro di un incontro con alcuni esperti del settore all'interno del Salone Teresiano della Biblioteca Universitaria di Pavia. L'appuntamento avrà inizio a partire dalle ore 17 nel corso di questo incontro convegno verrà presentato anche il libro La terapia psicologica breve dell'insonnia, i nuovi approcci della dottoressa Gloria Ragno. Questo era l'ultimo aggiornamento, a me non resta adesso che augurarvi un buon proseguimento con i nostri programmi.